Cari nipoti, ben ritrovati! Oggi parliamo di Cotto e Frullato, Cotto e Frullato Z, Crystal Gear, titolo complicato che ogni tanto se ne scappa dai miei neuroni. Se mi vedete un po' teso è perché è oggi il primo giorno che abbiamo lasciato praticamente i due cani liberi, Sherlock e Bolt, che fino ad oggi non sono mai andati troppo d'accordo, adesso stanno cominciando a legare un po', però sto sempre un po' sul chi va là perché potrebbero azzannarsi da un momento all'altro. Forse li vedrete passare dietro di me durante il video. Perché parliamo di Cotto e Frullato? Parliamo di Cotto e Frullato perché sono stato ieri invitato all'anteprima, all'Happy Maxi Cinema di Napoli, dal regista Paolo Cellammare che ho tra le mie amicizie di Facebook. E' stato molto bello da parte sua comunque pensare a me e mi sono sentito molto lusingato da parte di questo suo invito perché a detta di Paolo ci teneva molto comunque al mio parere sulla pellicola. Ed era solo il parere in realtà perché comunque come sapete, come vedete, io non è che abbia tutto questo seguito, non è che mi ha invitato perché in qualche modo volesse farsi pubblicizzare. E questa è una cosa, l'ho fatto proprio per una questione di stima e questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo. Voi sapete benissimo che per farmi scollare il culo, per farmi staccare il culo da questa sedia, ce ne vuole, ci vuole veramente un sacco di impegno, oppure ci vuole un impegno o il cinema gratis. Paolo mi ha dato il cinema gratis e quindi mi sono alzato dalla sedia e sono andato a vedere il film. Non ero troppo convinto perché non ho mai visto Cotto e Frullato, per una questione, per un fraintendimento da parte mia. Prima di tutto perché io comunque non seguo molti format su YouTube, un po' più all'inizio, ma con l'andare del tempo, diciamo, mi sono molto staccato, sono pochi gli YouTuber che seguo, non riesco mai, è una questione proprio di mancanza di tempo, un po' di gusti personali, di solito quando vado su YouTube a un certo punto preferisco più andarmi a guardare la trasmissione di approfondimento politico, oppure la recensione di quei pochi recensori che seguo, anziché andare a vedere dei veri e propri format. Non sono, diciamo, non fanno parte proprio del mio gusto i format che si trovano di solito su YouTube, non perché non siano meritevoli, ma perché è una questione mia personale. Poi magari mi rivedo e mi piacciono, però mi devono acchiappare e mi ci devono mettere davanti. Non sono io che mi sveglio la mattina e dico, ah, oggi ho voglia di scoprire un nuovo YouTuber. Cotto e frullato lo conoscevo semplicemente perché, ovviamente, essendo sulla piattaforma da diversi anni, essendo Cotto e frullato, Marizio Merluzzo comunque è uno YouTuber molto seguito, ovviamente li senti nominare certe persone. L'ho anche apprezzato comunque in alcuni video in cui fa il doppiatore, e ho potuto notare comunque, ho visto alcuni suoi vlog, anche se non ho mai visto proprio Cotto e frullato, credo di aver visto una sola puntata diversi anni fa, e ho potuto apprezzare comunque sicuramente la sua bravura come doppiatore, diciamo questa sua verve che ha, questo suo carisma che ha, che lo rende sempre comunque, sempre una persona nel posto giusto, al momento giusto, non è mai un pesce fuor d'acqua, questo suo essere molto sciolto, molto, e anche molto alla mano, mi piace molto nel suo personaggio, insomma. Poi personalmente non l'ho mai conosciuto, non ci ho mai scambiato neanche una chiacchiera, però questa è l'impressione che ho. Quindi in realtà conoscevo il format per nominata, però per un fraintendimento mio, e per questa questione dei miei gusti, non l'ho mai seguito perché io pensavo fosse una trasmissione di un format di cucina, poi col tempo ho capito che era tutta un'altra cosa, però non mi ci sono mai avvicinato. La mia paura era quella di andare, e poi diciamo ho messo al corrente Paolo di questo mio dubbio, era, appunto, il dubbio era che andassi al cinema, dato che questa risulta essere la puntata conclusiva della webserie cominciata su YouTube, avevo paura che potessi trovarmi in difficoltà perché non conosci personaggi, non conosci gli antefatti, non conosci bene la storia, allora avevo paura di non andare lì e non capire niente. E Paolo effettivamente ha detto, no guarda il film è stato fatto anche per chi non l'aveva mai visto, e chi prima di te lo ha visto senza aver mai seguito la webseries, ha detto che comunque il film è molto comprensibile, molto godibile, quindi puoi tranquillamente vederlo. Io sono andato lì comunque con i miei dubbi, e ho conosciuto Paolo, lo saluto, che è una persona molto simpatica e alla mano, sono andato lì praticamente alla biglietteria e non ho trovato i posti prenotati per me, ho avuto addirittura paura di pagare per entrare nel cinema, e invece è stato semplicemente un fraintendimento, me l'ha risolto stesso Paolo questo problema, sono arrivato in sala, il film è partito, e parte ovviamente con tutta una serie di flashback obbligati, che fanno un po' il riassunto, non proprio un riassunto, fanno un bignami di quello che è avvenuto nella webseries, e là ho cominciato ad avere un po' di paura, ho detto cazzo Paolo qua mi ha coglionato, mi ha detto che non bisognava conoscere tutta la storia, mentre invece non sembra che non sia così, mentre invece appena finito questo bignami comincia il film, e già dopo 5 minuti ci si rende conto comunque che è molto fruibile da parte di chiunque, anche dello spettatore random, che ovviamente se magari non sa che è tratto da una serie su YouTube, potrebbe sentirsi un po' stanito, ma che se si mette con un minimo di impegno, la storia riesce tranquillamente a seguirla, ovviamente non conoscendo i personaggi devi intuirli un po' con l'andare avanti del film, e ci riesci tranquillamente, però questo ti fa anche effettivamente poi venire voglia di andare a guardarti la webseries, per chi, per recuperare un po' tutti i personaggi, per capire un po' quello che è successo prima, la curiosità comunque te la mette addosso. Il mio parere è estremamente positivo, ma per tutta una serie di motivi che esulano anche soltanto, che esulano comunque l'unico fattore tecnico, che è sicuramente pregevole, ma per anche tutta un'altra serie di cose che questo film rappresenta, lui e anche altri film comunque autoprodotti, indipendenti, nati comunque dalla rete, ma non solo per quello, ma soprattutto per la loro natura indipendente. Il film è molto divertente, è riuscito comunque, io sapete come sono, io sono un musone, sono noioso, sembra il tipo tutto frufru così, ma per farmi ridere, per divertirmi, ce ne vuole proprio. E il film ci è riuscito alla grande, perché è riuscito comunque a strapparmi almeno quelle 5 o 6 grasse risate, in mezzo comunque a una trama che è comunque ben costruita, è un film che è ben girato, per quel poco che avevano a disposizione hanno fatto veramente qualcosa di ottimo. Maurizio Verluzzo ha quel grande carisma che comunque te lo fa amare subito appena lo vedi, anche se lui cerca di fare il tipo un po' tosto, un po' antipatico, che fa parte del personaggio, sai, che maltratta anche un po' la gente, però ti rendi conto che è uno che ha veramente del talento, del talento da vendere. Il film riesce a non essere mai comunque scontato, riesce ad essere comunque originale, riesce ad essere fresco, ed è quello comunque che si nota quando lo vedi, ti lascia praticamente un bell'alito fresco, questo suo essere totalmente indimendente, ti fa capire, ti fa percepire tutta la passione e il lavoro che c'è dietro, ma lo vedi proprio negli occhi dei protagonisti. Io quando ho parlato con Paolo, lo vedevo che gli brillavano proprio gli occhi quando parlava di questa sua creatura, quando parlava di questa sua creazione, cioè, vedevi una persona che amava ciò che aveva prodotto e che voleva assolutamente che questa cosa fosse amata dalle persone che l'andavano a vedere e quest'amore comunque che ha messo nella sua opera, lui e tutto il cast, è una cosa che si percepisce ed è una cosa che viene maggiormente apprezzata, purtroppo io la posso solo intuire, ma non essendo comunque uno dei sostenitori proprio del format di quelli che hanno visto tutto e che l'hanno anche finanziato, diciamo questo dettaglio, magari me lo sono perso, lo posso intuire, ma sono convinto che tutti quelli, anche perché io li vedevo tutti quelli che erano lì, molti di quelli che erano lì ovviamente erano quelli che avevano contribuito alla campagna di crowdfunding, lo vedevo che comunque la loro partecipazione era totale, era appassionata, erano tutti molto coinvolti, perché questo progetto era un progetto di tutti. quindi questa originalità, questo suo essere unico, questo suo essere anche anarchico, questo suo comunque proporre un genere di film che non ti aspetteresti, che non vedresti comunque prodotto da una casa produttrice che vuole andare sul guadagno e sul soldo facile, è una cosa che comunque puoi intravedere soltanto in queste opere qua, opere fatte comunque da persone appassionate e che comunque hanno voglia di proporsi e di proporre qualcosa di veramente nuovo. Ovviamente il film non è che sia perfetto, non è che parliamo di grande cinema, ma parliamo di cinema, di cinema della passione, di cinema come deve essere, deve essere fatto, cioè da persone che ci credono, che credono in un progetto e che vengono coinvolti da questo progetto in maniera totale. E lo vedi anche praticamente dall'impegno comunque proferito anche dai protagonisti, che sono pochi, ma sono tutti in palla totale, soprattutto Maurizio Merluzio, che è ovviamente un ottimo doppiatore, un ottimo attore, potrebbe veramente fare qualunque cosa, Maurizio Merluzio, e ha diciamo questa verba da showman, ma a me colui che mi ha colpito di più è stato, mi pare si chiamasse Tommaso Caporale, forse si chiama Tommaso Caporale, che interpreta praticamente il personaggio, l'inventore del frullatore, praticamente che contiene questo crystal gear, questo ingranaggio, che vabbè fa tutta una serie di cose, che poi vedrete quando andrete a vedere il film, che spero che andrete a vedere, che ti fa rendere conto, Tommaso ti fa rendere conto, del fatto che attori si nasce, e lui praticamente è nato attore, è venuto lì praticamente nei panni del suo personaggio, e ha interpretato il suo personaggio dal vivo, per tutta la durata della serata praticamente, anche alla fine, quando siamo usciti dal cinema, stava lì fuori e parlava con le persone, parlava con chiunque, sempre praticamente con questo accento anglosassone, non è mai uscito dal personaggio, e aveva praticamente, ed ha un carisma totale, io e la zia già ce lo immaginiamo, a fare una cosa tipo uno Sherlock Holmes, tanto comunque i diritti oramai sono scaduti, lo può fare chiunque, lo posso fare anch'io, uno Sherlock Holmes con un personaggio di quel genere, comunque secondo me spaccherebbe tantissimo, complimenti, nel cast c'è anche Gian Andrea degli ODS, che io non conosco, non conoscevo fisicamente comunque, gli unici contatti che ho avuto con Gian, sono stati tramite qualche commento, perché ogni tanto tempo fa mi lasciava dei commenti, sotto i riassunti dei cartoni animati, essendo lui comunque un appassionato, non lo conoscevo di faccio, l'ho riconosciuto dalla voce, infatti poi dopo quando sono tornato a casa, sono andato a vedere, ma fammi vedere se questo è Gian degli ODS, e infatti era lui, c'è un cameo bellissimo, che poi è quello che mi ha fatto, che mi ha convinto, di andare a vedere il film, c'è un cameo di Alberto Pagnotta, che doppia Eddie Murphy, c'è un ragazzo di colore, ovviamente che fa la parte di Eddie Murphy, Eddie Murphy in Beverly Hills Cop, ed è stato bellissimo, perché Alberto Pagnotta è bravissimo, fa un'imitazione di accolla, che nessuno in Italia riesce a fare, ed è riuscito a riprodurre, la risata di Eddie Murphy identica, io mi sono quasi commosso, quando l'ho visto di nuovo sullo schermo, è stato veramente bellissimo, ed è stata un'idea proprio veramente originale, cioè chi va a pensare di mettere Eddie Murphy, di riproporre Eddie Murphy, in un film italiano tra l'altro, altro cameo del doppiaggio, è quello di Alessandro Rossi, che doppia, vabbè, il maestro, anche lì è stato un momento di grossa emozione, ma il top, senza spoilerare troppo, anche se comunque non esiste, non si tratta di un vero e proprio spoiler, perché sono dei personaggi che escono a un certo punto, sono la banda di teppisti vegani, che vengono, e hanno una loro sigla, che viene proposta anche nel film, quando escono loro a rallentatori, sai, alla Michael Bay, con questa sigla, dei Nano War of Death, che è qualcosa di eccezionale, è bellissimo, momento top, io mi aspetto adesso lo spin-off, Paolo te l'ho detto già, anche fuori dal cinema, mi aspetto lo spin-off, non dico il nome della banda di teppisti, perché è bellissimo, lo spin-off dei teppisti vegani, perché è la cosa più bella, un ossimoro così, non me lo riesco a immaginare, c'è la banda di teppisti vegani, capito, che dovrebbero essere, di essere i più innocui, sulla faccia della terra, è stato veramente bellissimo, quindi, complimenti ovviamente a tutto il resto del cast, apprezzato moltissimo la mancanza di volgarità, quelle volgarità che ci sono, sono quelle che ti fanno ridere, quelle che comunque, sono volgarità mai eccessive, c'è qualche parola, qualche parolina qui e lì, però, a me è piaciuta proprio questa pulizia, anche del linguaggio, anche perché comunque, essendo attori e doppiatori, non c'è nessuno che parla in dialetto, troppo, nei soliti, quando fanno di solito film in Italia, di questo genere, c'è sempre il dialetto molto spinto, che non è che abborrisco comunque, no? Che abborro, come si dice, abborrisco o abborro? Mico, forse in tutti e due modi, non lo so, comunque sicuramente una delle due giuste, però comunque, mi fa anche piacere a volte sentire bello il linguaggio pulito, comunque la pulizia del linguaggio, e poi soprattutto, complimenti proprio per la presa audio, perché comunque, è stata, laddove praticamente era presa diretta, è veramente tutto molto chiaro, il film in sé non è mai improvvisato, questa è la cosa che mi piace, è molto calcolato, si vede che è molto anche storyboardato il film, ed è molto scritto, non è mai improvvisato, e semmai c'è dell'improvvisazione non si nota, e ovviamente l'improvvisazione c'è nel momento in cui fanno, magari ripropongono il format di corto e frullato, dove c'è praticamente Maurizio Merluzzo, che fa comunque il gigione, tira fuori la battuta, lì c'è dell'improvvisazione, non è tutto scritto, ovviamente l'improvvisazione fa parte proprio del format dal quale prende vita questo film, però lo vedi che il film è costruito molto bene, cioè complimenti a Paolo assolutamente, colonna sonora bellissima, senso proprio di appartenenza, perché comunque è un film per quel popolo della rete che noi rappresentiamo in qualche modo, anche perché appunto insieme a Gianni, insieme a Alberto Pagnotta, c'è Bob Ampesov che comunque ha fatto la locandina, il logo del gruppo dei teppisti vegani, c'è una partecipazione comunque in questo film che ha del commovente comunque vedere tutto questo attaccamento verso quest'opera, quindi io vi invito assolutamente ad andare a vederlo, a Napoli ritorneranno il 13 luglio, io lo andrò a rivedere perché voglio pagare il biglietto, non avendo partecipato comunque alla campagna di crowdfunding, che non sapevo nemmeno che esistesse perché non seguivo, comunque ho frullato, voglio comunque contribuire in qualche modo e lo andrò a rivedere, anche per andare a fare un altro saluto comunque a Paolo, e mi andrò comunque poi a recuperare anche la serie di cotto e frullato, perché comunque c'è uno spezzone, un pezzo di film dove c'è cotto e frullato proprio, ed è divertentissimo, credo di essermi perso veramente qualcosa, c'è la zia che è impazzita per la vocina di Maurizio, la vocina del castoro, è andata in brode di giugiole, in sollucero totalmente, per quella vocina lì, e gente, io non posso fare altro che consigliare di andarlo a vedere, perché comunque, lo ripeto, non è magari perfetto, perché niente è perfetto a questo mondo, però rappresenta praticamente un qualcosa che trascende comunque il puro calcolo del film fatto per incassare, è un qualcosa fatto veramente con l'affetto, l'amore praticamente per la settima arte, e per il pubblico quello andrò a vedere, quindi se andrete a vederlo, vi beccherete un po' di amore anche voi, sia dallo zio, sia dalla produzione, dagli attori, e da tutto il cast del film, cotto e frullato Z, The Crystal Gear. Io intanto vi saluto con una piccola comunicazione di servizio, non mi sono scordato di voi, sto lavorando come una bestia sul trailer, sul weird trailer di Thor, che uscirà diciamo entro un paio di giorni, perché ho quasi finito, e poi tornerò a fare, farò una nuova puntata di Oscar, non è stata raggiunta comunque, non è stata raggiunta la cifra di crowdfunding che ho fatto su Indiegogo, però la faccio lo stesso, e poi cambieremo poi qualche cosa dopo, forse la lasciamo da parte Indiegogo, perché è complicato, e perché comunque si pigliano un sacco di soldi, di tasse, e quindi magari si farà un Patreon, se vorrete partecipare. Non mi sono neanche dimenticato comunque, delle recensioni che vi devo, a voi che avete comunque donato su Indiegogo, ma sto aspettando comunque, stavo aspettando prima che si concludesse la campagna di Indiegogo, e sto aspettando di finire il weird trailer di Thor Ragnarok, quindi poi dopo mi metterò a recuperare tutte le recensioni che vi devo, io intanto vi mando un grande saluto, ciao a tutti i nipoti, ci vediamo alla prossima.